E' stata una riunione informale, come forse già sapete, all'ufficio di presidenza si discuteva a livello informale sempre del trattamento economico dei deputati, quindi dei parlamentari. E' stata valutata quella che è la prima istruttoria proposta dai questori, che a livello conclusionale sembrava prospettare un trattamento per i deputati italiani comparato con quelli stranieri, in particolare tedeschi, francesi, inglesi e del Parlamento europeo, inferiori rispetto ai nostri colleghi esteri. In realtà noi abbiamo fatto delle osservazioni di sostanze, infatti all'interno di quell'istruttoria non erano presenti alcune voci, come ad esempio il contributo unico omnicomprensivo, che permette ai gruppi di apprendere del personale. Non era presente il fatto che noi deputati non paghiamo il treno, aereo, navi, mentre gli altri deputati europei li pagano. Insomma, delle varie voci che non erano state considerate nelle conclusioni. Ma soprattutto il Movimento 5 Stelle ritiene che un paragone, ad esempio con la Germania, sia sì possibile, ma deve essere basato e parametrato su quello che i cittadini percepiscono realmente. Se un cittadino medio tedesco guadagna 2.000 euro al mese netti e un cittadino italiano guadagna 1.000 euro al mese netti, e non sono lontano probabilmente dalla realtà, 5.000 euro netti per un deputato tedesco non sono equi rispetto ai 5.000 euro netti di un deputato italiano. Quindi noi chiediamo questa riparametratazione, insomma. Perché sul reddito, certo, sulla comparazione con il reddito italiano, noi siamo qui per rappresentarli, per farli crescere. Non siamo qui per dire che i deputati non devono guadagnare, hanno una grande responsabilità, ma prima facciamo crescere i nostri concittadini e poi ci facciamo crescere i nostri stipendi. Questa è la nostra posizione.